Allora vi presento ufficialmente il duo Stanislao Sarnelli e Lorenzo Di Rago in Uomini Soli. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, dopo barba che sa di pioggia e la ventiquattro ore. Tu ti è il corriere della sera, vai e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché in testa strani tarli, perché ha paura del sasso o per la smania di successo. Per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero. Io delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nefrosi e gelosi. Perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Ci sono uomini soli per la sede d'avventura, per chi ha studiato da prate o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li ha rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Io delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, ti hai ragazzato più di noi. Vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiare un po' per noi. A Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai. Ma quaggiù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. E' soltanto un uomo solo. Grazie. Grazie, grazie. Complimenti a questo duo che ci ha regalato uno dei più grandi successi dei Poo, Stanislaus Arnelli e Lorenzo Di Rago. Grazie.